sono cetrioli sotto acido Giulia no 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 ciao raga come state speriamo bene noi oggi siamo qui per fare degli assaggi se vedete dei libri lì è molto tardi noi stiamo facendo questi assaggi e potremo benedettamente provocarci un listomago proprio perché non lo so mi sento un po' scombuzza però vabbè succede allora raga oggi no direi di provare sì sì lo so oggi proviamo cibi americani in realtà proviamo altre cose poi li faremo vedere altre anzi facciamo vedere un altro poi vedremo questi allora abbiamo io voglio quelli voglio questo allora abbiamo preso il preparato per il mattino esatto raga e appunto è un preparato con all'interno due uova 125 ml di tigre 25 ml d'acqua e 125 ml d'acqua ma che cosa 75 ml d'acqua 125 dai nemmeno cosa ho scritto 75 è perché qua vabbè sono differenti qua 125 ml di vegetable oil e niente apriamo voglio vedere cosa c'è dentro avete uno no vabbè serve qua è quello che sto facendo comunque sono preparato per i muffin che non faremo Giulia escono anche così no raga compratelo compratelo costa pochissimo infatti ma sono tre bustine quindi si fanno un modo separato no vabbè no vabbè adoro raga vabbè raga poi Giulia troppo bello troppo bello no vabbè raga no vabbè raga non l'aprire non l'aprire non l'aprire è un segreto ci vedremo in un altro video mentre faremo mentre faremo questi muffin e niente li volevamo solo far vedere una cosa stagionale per l'ultimo quelli sono troppo buoni secondo me ok secondo me sono buonissime no no vai proviamo queste facciamo queste patatine allora raga ho avviato il video secondo me queste raga sono delle patatine buonissime no Giulia tu le fai vedere le prima sono delle patatine secondo Giulia buonissime a gusto ketchup ketchup flour che bello che buone stanno proprio delle patatine sono buonissime te l'ho detto che pianza non so se sono le tante no lei che schifo non va bello io faccio vedere vedete uno ma come sempre le friabili un po' dolce un po' un po' sotto al mobile le mangiate nella credenza le mangiate però però non ridere però non si è venuta la nostra scelta no no le sceglie non si è venuta allora allora devo dire che si è venuta con questi perché questo ma ci faceva no allora vai prossimo assaggio serietà allora no io dai io allora abbiamo preso questi cedriolini americani questi si mettono nei panini americani penso non lo so sinceri infatti non l'ho detto nemmeno e niente è stata una ragazza che mi è spaventrata tantissima ho preso un piattino una forcantina e io penso che qui sopra ci voglia un po' di sale e quindi ho preso un po' di sale però non lo so è da vedere non voglio nemmeno no 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 tu eravamo il caverso che schifo ok ragazzi oggi appauritiamo ora io appauritiamo ora ora gomitiamo gomitiamo no Giulia io già sto gomitando allora perché ne abbiamo coprati Giulia è tardi gomitiamo fammi dire ma sono sottacito non ce la faccio non ce la faccio non ce la faccio non ce la faccio no allora devo assaggiare muti si si oh dalle non dalle ma assaggia massaggia 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 come com'alle di non mi fa spiegare non ce la faccio ma poi è mezzanotte di zero mi ce la faccio a noi è davvero un orario sancenato per assaggiare questa roba oggi che paura ah i tre di una eeeh come ci ha bella 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 ok no comunque zero ma sono di cetriolo solo che sta in questo ah sono col sodio io però assaggia col sodio no ce la faccio Giulia ma sono cetrioli mamma mia E' sempre colpa tua che io ho paura di queste cose Vediamo un attimo Sì sono cetrioli sotto aceto Giulia No vabbè non voglio nemmeno guardare Comunque Giulia che esagera Perché raga ve lo giuro sono dei cetrioli sotto aceto Ma è l'olario che hai sbagliato Passa già i cetrioli sotto aceto Sì però se non puoi partire così mi fai sentire male Vabbè passiamo a questo che secondo me è buonissima Sì c'è stato un errore di percorso Ecco è firma Capito firma Allora sono della McKennedy Come tutte le cose che abbiamo fatto vedere fino ad ora E niente sono Tipo panna e caramello Tipo il McFarney Dovrebbero un po' ricordare il sunday del Mc E raga c'erano anche tipo Ricoperti di cioccolato Tieni E ora ce ne abbiamo avuto due Che cosa è passata Ma è tantissimo Non lo mangierai mai tutto Ma come lo devo mangiare Dai No Fallo vedi Fallo vedi Giulia a parte che tu cambia Fallo vedi No Non abbiamo armato di altro Comunque C'era anche con il cioccolato Ricoperti di cioccolato Però noi abbiamo voluto Prendere questo qui Dai Giulia No no Guardate È ricoperto di caramello Vedete Ti manca Mumu yeah Ha fatto il mini Mumu super goloso Ok Vai Vado Giulia Che bello Che hai detto Scusatemi Raga comunque non so se vuoi Guardo là o guardo qua Sai che secondo me guardo Eh sta di macchimello lo sai Scusatemi Infatti ecco Lei panna Che panna Ti l'avevo assaggiata Di crema marshmallow Quella lì tipo super famosa Sgan sgan Questi sanno di Alpe Libre Ricoperta di caramello Raga speriamo che conoscerete Conoscete tutti di Alpe Libre Perché il caramello sa di Alpe Libre Ma è vero Da già Scusatemi Ude Episodemi Aspetta un attimo Milano Non soccasso No aspetta un attimo Voto, ora non abbiamo dato i voti Secondo me i muffin saranno troppo buoni Secondo me i muffin sono buoni Soprattutto quelli senza cioccolato Gelato super approvato Mi piace troppo Perché è bello che era melluso Poi sa di marshmallow Patatine no 6 e mezzo Cettureoli sono dei semplici cettureoli No raga allora No va bene Un attimo un attimo il giramento Il circolo Salviamo Il magnifico gelato Alla prossima Così Ciao Vi aspettiamo nel prossimo video Nei prossimi video Ovviamente Seguiteci anche Facciamo una sfida Che cucina è meglio Che cucina è più buona Seguiteci anche Su Instagram MargheritGiuliaOfficial E dove metti i zittini? MargheritGiuliaOfficial Sul mio profilo TikTok Margherita Lettera E sul nostro profilo TikTok MargheritGiulia Ho fatto un guai Scusate Ciao Ciao Spendio 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 Grazie a tutti.